Questo Acri il curriculum che gli hanno fatto capire che ha fatto lo conosce solo lui io so soltanto che ha lavorato con il Bari insieme a Perinezzi per un periodo poi non so dove stiamo, lui l'altra sera ha dichiarato che è stato a Palermo, a Roma, a Brescia, a Bologna io non l'ho mai sentito, comunque ma io credo che Acri abbia un curriculum e un parmalese come lei non ha mai fatto nessuna società